Quest'anno è cambiato proprio tutto, tutto tranne il solito soffocante caldo estivo. Per molti di noi sarà un'estate molto diversa dal solito. Se la fai l'idea di non poter partire ti buttano giù, puoi sempre portare la vacanza a casa tua. Bastano un po' di fantasia e di immaginazione. Può essere divertente. Certo, l'aria in casa non sarà quella fresca di montagna o rigenerante del mare. Ehi Google, accendi il condizionatore Jade. O forse sì, perché con Jade o Linuan ogni tuo desiderio è un ordine. L'unico purificatore e condizionatore che libera l'aria di casa da muffe, batteri e cattura il 99,9% delle polveri sottili. Quest'estate sarà diversa. Insieme possiamo renderla speciale.